Un pomeriggio di primavera, una bella domenica di sole e un'idea in quel 24 aprile a Cucciago, parlare della resistenza e l'iniziativa dell'amministrazione comunale, proponendo tre libri che ancora non c'erano. Uno era in fase di scrittura, uno prossimo all'edizione, il terzo quasi ad estampe, e gli autori erano chiamati a parlarne. Anche la modalità organizzativa era inconsueta. Tre postazioni, una per libro, dentro e fuori la biblioteca e la sala consigliare, tre punti di vista dichiarati e tre contesti ben definiti a fare da sfondo. Con i partecipanti, non solo pubblico, non solo ascoltatori, invitati ad un percorso in peregrinazione tra un luogo e l'altro delle tre postazioni narranti. L'antifascismo e della resistenza di Don Adolfo Asnaghi. Sul prato che fronteggia l'ingresso della biblioteca, una tenda scout accoglie le vicende storiche e territoriali di Don Adolfo Asnaghi e il percorso delle aquie randage, gli scout che non si arresero, proponendosi di resistere un giorno in più del fascismo. Autrice e relatrice Rosanna Moscatelli. Grandissimo studioso di storia e filosofia russa. La sua partecipazione alla resistenza avviene prima del suo arrivo a Cantù. Lui è ordinato sacerdote il 18 maggio 1940, 20 giorni prima dell'entrata in guerra dell'Italia. Tempo di guerra, tempo di fascismo, tempo di censura. Don Adolfo Asnaghi deve stare attento a quello che scrive. Apro la parentesi, deve stare attento anche perché nel 1928 l'azione cattolica e gli oratori erano stati chiusi per un decreto del regime. E sciolti anche, sempre nel 1928, sciolti anche gli scout cattolici. Il regime voleva il monopolio dell'educazione della gioventù. Diversi gruppi però di scout si danno alla clandestinità, continuano le loro attività e tra questi le famose aquile randage, un gruppo milanese. A poca distanza, la sala consigliare accoglie il racconto storico sulla resistenza tedesca al nazismo, quella della chiesa confessante, di matrice protestante, raccolta intorno alla figura martire di Dietrich Bonheu. Alle spalle di Giorgio Cavalleri, l'autore, affare da sfondo localizzato, localissimo, quasi uno specchio anomalo di intenzioni e sacrificio condivisi, i tabelloni di una mostra relativi all'eccidio avvenuto a Cucciago il 18 luglio 1944, con l'uccisione di tre fiancheggiatori del movimento resistenziale colpiti in un dopolavoro popolare locale. Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere intervenuti così numerosi. La persona di cui devo parlare oggi si chiama Dietrich Bonhoeffer e all'interno della resistenza o dell'antinazismo in Germania è una figura del tutto particolare, cioè nasce nel 1906 in una città tedesco chiamata Breslavia. Poco poco rispetto all'atteggiamento nei confronti del regime tutti i possibili oppositori vengono bloccati. Dice no, io devo tornare e fare qualcosa a favore del mio popolo contro il nazismo. Ecco, per uno che è un sacerdote non è una posizione facilissima. Quando torna indietro dagli Stati Uniti e dice no, io devo fare qualcosa per il mio popolo perché qualsiasi cosa faccia devo stare con lui, c'è un mio amico che conosco tanti anni, Giovanni Bianchi, che aveva definito questo atteggiamento una posizione molto luterana. Ecco io, quello che lui aveva scritto qualche anno fa in un libretto riferito a Bonhoeffer, io dovrebbe pubblicarmi l'edizione di Paolini, un libro su Bonhoeffer. Io ho un po' saccheggiato qualche frase di Bianchi a cui l'ho detto, anche perché siamo amici da tanti anni. Dopo queste due tappe è la volta di Giovanni Bianchi e della sua anteprima di Resistenza senza fucile, che avremmo fatto esordire ufficialmente, pubblicato, a tempo di libri, a Milano, il 23 aprile 2017, un anno dopo l'appuntamento di Cucciago. Bene, questa terza tappa itinerante. Due osservazioni preliminari sulla location. Primo, mi sembra molto bello fare una riflessione di fronte alla telecamera, ma al di fuori della logica pubblicitaria, che è quella che distrugge il ragionamento e la riflessione. Comunicare va benissimo, però bisogna avere un'intenzione critica, un'attenzione, una voglia di ricerca. E questo, qui sto sopra, un broccato. Questa è una location, diciamo, viscontiana. Visconti, nelle sue grandi regie, aveva perfino l'abitudine, quando girava una scena, di far mettere nei cassetti, che non si sarebbero aperte, lenzuola d'epoca. Ossia, ricostruire dal vero. Ricostruire dal vero. Questo, mi diceva Renzo, è un tessuto usato e per la scala e per il Balshoi. Quindi la location è notevole. Ma c'è una location più importante, che è quella che si avvertiva soprattutto fuori quando parlava a Rosanna. Siamo in Brianza. La Brianza è uno dei luoghi della resistenza al fascismo. Nella quotidianità, anche perché dalla metropoli milanese si sfollava in Brianza. E quindi, con tutti i rapporti, in questo senso, tra città e campagna, tra due luoghi molto diversi, con due diverse dimensioni della resistenza. La dimensione in Brianza, per esempio, la ritrovate in uno dei più bei romanzi sulla resistenza, che è la messa dell'uomo disarmato di Don Luisito Bianchi, che è stato anche assistente delle ACLI nazionali. Ebbene, lì hai una cadenza, siamo grosso modo nel Cremonese, hai una cadenza tutta diversa, dei tempi, delle personalità. Un'altra resistenza, ad esempio diversissima rispetto a quella che ho sentito io da bimbo. Ecco, mio padre era partigiano cristiano, a Sesto San Giovanni, Stalingrado d'Italia, i miei zii erano tutti partigiani garibaldini. Ecco, la resistenza da noi era una resistenza invece, come dire, dentro i tempi e le tensioni del fordismo. Le grandi fabbriche, 40-50 mila tutte blu, molte donne, perché gli uomini erano al fronte, le armi le fabbricavano le donne e così via. Quindi è molto importante collocare anche sul territorio la resistenza. La Brianza è una delle zone iniziali di resistenza al fascismo. Quando nel 1924 il fascismo sfonda elettoralmente, in Brianza supera appena il 20%. I partiti antifascisti ottengono il 60%, il Partito Popolare il 40%. Quindi la Brianza è un luogo di resistenza al fascismo. Per l'ultimo 25 aprile, quello dell'anno scorso, c'è stato sui blog, sul web, eccetera, in tutti questi circuiti è anche una lunga discussione intorno alla briantitudine, con chi distingueva, ma forse la Brianza era più afascista che antifascista. Insomma, è un luogo di resistenza al fascismo, per molti versi. Abbiamo collocato così il problema perché questa esigenza di interrogarci a partire dai partigiani senza fucile. La resistenza ovviamente è stata attraversata dalle ideologie. Alcune in maniera evidente ne hanno anche capitalizzato la memoria, quasi usucapita in certi casi. Alcuni non sono riusciti a superare la resistenza, è il caso delle formazioni giustizia e libertà, che erano probabilmente la seconda forza in montagna, il partito armato, e però giustizia e libertà non è riuscita a trasformare il partito dei fucili in partito politico. E quindi personaggi pur eminenti che vengono... Ferruccio Parri, ecco, senz'altro quello di maggior rilievo e poi tutta una serie di personaggi minori, non riescono a portare dalla resistenza, quindi dalla lotta armata nella vita della Repubblica il proprio messa, a organizzarlo politicamente. Ecco, e quindi quello che è stato il partito dei fucili di GL non riesce ad essere il partito dei voti, per esempio. Quindi ci sono tutte queste trasformazioni da seguire e l'idea di partire dai partigiani senza fucili significa questo. Vi è una connessione molto stretta tra le brigate che stanno in montagna e la vita quotidiana della gente. Non è solo la zona grigia dove sono in corso maggiori ripensamenti, no, no. C'è tutto un modo di partecipazione, c'è una coscienza che cresce nella quotidianità. E quando dico la quotidianità cosa voglio dire? Le fabbriche, anzitutto. Per esempio una scoperta recente che abbiamo fatto noi di Sesto San Giovanni con l'Istituto di Storia Contemporanea è per esempio il ruolo di iniziativa che anche negli scioperi resistenziali hanno sempre avuto le donne. Era sfuggita la cosa e soltanto il recuperare carte e memoria ci ha consentito di verificare questo. al di fuori di qualsiasi moda di femminismo si tratta di non dar torto ai fatti da questo punto di vista. Cito il principale, siamo nel 1943, gli scioperi del 1943 incominciano a Torino, primavera del 1943, fanno fatica a partire e parte l'aristocrazia operaia, gli operai specializzati, gli operai qualificati, incominciano alla Fiat, poi nelle altre fabbriche, ma ci vuole una settimana per mettere in moto la macchina. Dopodiché partono alcuni autocarri dalla Fiat di Torino e vengono a Sesto San Giovanni alla bulloneria della Falcon Cordia per prendere i bulloni che servivano per fabbricare autocarri, autoblindo, automobili e così via. Arrivano e gli autisti si mischiano alla mensa con le maestranze, dicono ma voi qui a Sesto non fate niente, c'è un passaparola e il giorno successivo incomincia lo sciopero dove? Alla bulloneria della Falcon Cordia. Su 470 dipendenti, 400 sono donne e sono loro a incominciare. Per cui quando i fascisti mandano in fabbrica per sedare lo sciopero le squadracce, queste donne che erano vestite per il lavoro con delle lunghe cerate che arrivavano fino ai piedi, e soprattutto avevano degli zoccoli tipo olandese, prendono a calci là dove non batte il sole, i fascisti li sbattono fuori e allora incomincia veramente lo sciopero che si estende man mano a tutti gli altri reparti della Falc per incominciare, quindi lì Falc Concordia e si coniano gli slogan con l'Unione e la Concordia, tirando fuori i nomi dei diversi stabilimenti e via via lo sciopero poi si estende a tutte le fabbriche sestesi, la FAC, la Marelli, la Magneti Marelli che è quella dove c'è il personale più qualificato. Renzo Salvi ha scritto delle cose molto belle, i fascisti avevano, i fascisti, l'industria aveva già a disposizione la televisione allora che non era ovviamente nelle case ma poteva servire così come la radio veniva fatta a servire, pensate al ruolo della radio durante il fascismo, radunava la gente in piazza e così via, ebbene c'è tutto questo, c'è tutto questo e man mano le fabbriche partono, ci sono tutta una serie di altri scioperi sempre innescate dalle donne a partire da fatti totalmente elementari, il pacco viveri oppure la mensa di mezzogiorno è passata da un po' di sbobba a metà uovo mentre prima sembrano alcune volte le rivendicazioni analoghe a quelle che farà il movimento studentesco che poi prenderà via via un abbrivio. Ma è esattamente così, con una cosa in più che va detta ancora per le donne, vedete l'8 settembre, l'8 settembre spacca il paese, l'8 settembre viene giù la monarchia a pezzi e senza onore, i Savoia non reggono la storia, direi così, l'esercito si sfalda e l'esercito è un esercito che ha giurato al re e noi avremo mezzo milione di militari, ivi compreso i lazzati, che vanno in campo di concentramento perché non vogliono rompere il giuramento e finire sotto l'egida della Repubblica di Salone. Già che ho citato lazzati, anche qui vi ho detto una cosa, per dire alcuni personaggi senza fucile pure come partigiani, sia il rettore della Cattolica Gemelli come il cardinale Schuster, lazzati era il presidente della Nazione Cattolica, brigano e ottengono dai nazisti il permesso di liberarlo dal campo di concentramento. Vanno e gli dicono lei può andare, la risposta di lazzati è no, io resto qui con gli altri. Quindi capite cosa vuol dire, cos'è questa resistenza di quante testimonianze si fa? E per le donne, stavo dicendo, c'è una cosa in più, gli uovi avevano il problema di non essere presi, se non andavi sotto gli standardi della Repubblica di Salone. Le donne non avevano questo problema e quindi le donne che vanno nella resistenza, la maggior parte staffette, ma mica solo staffette, alcune vanno su e dicono io combatto come te. Quindi fanno una doppia scelta da questo punto di vista, nel senso che non erano forzate a scegliere, come invece succedeva per i maschi in età di militare. Guardare a questa società che si muove quindi nelle fabbriche, nelle campagne, ho detto con dei ritmi diversi, nei quartieri. Io sto leggendo adesso questo libro di Luigi Borcomaneri, li chiamavano terroristi sui gap milanesi. E qui con esempio differenze, per esempio c'è un giudizio di Giovanni Pesce, che è il più grande, ha scritto molto anche su queste cose, che viene da Torino e dice i gap di Torino sono seri, hanno dietro una coscienza e così via, perché in genere sono operai, quelli milanesi sono un po' sbandati. Quindi con anche tutta una serie di zone diverse, con diverse illuminazioni, diverso grado di coscienza, diverso grado di partecipazione, di politicità antifascista da questo punto di vista. Le parrocchie, le parrocchie. E qui c'è tutta, io per esempio, sapete, sono il presidente dei partigiani cristiani, una delle cose che sto cercando di cambiare, il problema non è dire ma c'erano anche i cattolici, hanno ammazzato anche tanti preti, tutto vero. Il problema è vedere come il popolo italiano, armato o no, si è mosso in senso antifascista e allora se guardi al popolo nel suo complesso troverai quelli col fucile, quelli senza fucile, quelli con la tonaca, quelli che bestemmiano, le monache, le monache di clausura, gli ebrei, gli scout, le aqui, le randagge, tutto questo sta dentro il lento maturare sul territorio, nei diversi ambienti di un popolo in senso antifascista e per l'acquisizione della libertà. Ecco, per esempio, anche la partecipazione a una brigata non dispende sempre dal tipo di ideologia. Non molto lontano da qui, sul lago di Como, a Brunate, ecco, il più giovane partigiano, è morto neanche a vent'anni, di Sesto San Giovanni, Ernesto Mandelli, c'è un libro scritto da un gesuita, Garibaldini Apostolo. Questo ha fatto tutta la lotta di resistenza con i Garibaldini, poi è diventato il più democristiano che c'era a Sesto San Giovanni, per cui faceva i comizi alle anche vent'anni e li concludeva in maniera un po' spericolata, dicendo, e voi del PC per carità istruitevi, che con quelle piazze e quell'ambiente non era proprio un modo per cercare il consenso. Ecco, morirà facendo campagna elettorale per la DC in uno scontro con l'autocarro in Sicilia, però veniva da lì, ma c'è un caso ancora più clamoroso, sempre a Sesto San Giovanni, Mariuccia Mandelli, Mariuccia Mandelli non è parente, Mandelli è un cognome un po' diffuso dalle nostre parti, è la segretaria del direttore generale della Magneti Marelli. Le fabbriche fanno resistenza, anche i padroni, non tutti, in maniera diversa, per esempio Pirelli viene trattenuto sei giorni in guardina a Milano perché non vuole mandare i suoi operari a lavorare in Germania. Quando discutevo questa cosa con Antonio Pizzinato, ex segretario nazionale della CGL, lui mi faceva osservare, è mica vero che era un problema di classe, c'erano anche questi, ma è stata una lotta di popolo, perché i padroni in alcuni casi hanno fatto anche loro la lotta di resistenza, così come quello che sarà poi il senatore Enrico Falc a Sesto San Giovanni e così via. Mariuccia Mandelli c'è la segretaria alla Magneti Marelli, ci sono scene rocambolesche, arrivano i nazisti e lei si precipita dal suo direttore, lei si butti dalla finestra, era al primo piano, dice ma qualcuno la prenderà, e fate quelli altri da sotto, e quindi questo scappa. Sono tutta una serie di cose, la meglio, la mette nella segreteria della FIOM, e questa fa subito una battaglia perché ci sia parità di stipendio tra le donne e gli uomini, manco a dirlo, e poi la vogliono mandare in Parlamento. E questa, alla vigilia dell'elezione, va ad Assisi, si fa monaca di clausura nelle colattine francesi, che è quel convento che c'è al di là della strada che costeggia la procivitate cristiana, dove è ispirata un anno fa. Quindi ci sono anche fatti emblemati che dicono che avere i paraocchi ideologici non serve. La resistenza ha avuto anche ideologie, e per bacco uno non si commuove a leggere le lettere dei condannati a morte della resistenza europea, giovani di vent'anni che non credono in Dio e dicono vado a morire per la libertà, sereni, mamma non piangere. C'è Cook, un autore ovviamente inglese, che letteralmente ha fatto un libro sulle interpretazioni, è uscito un anno fa, della resistenza italiana, dove appunto dice è stata insieme una grande battaglia per l'idea. E' anche questo. E' anche questo. E uno aveva un'idea cristiana, un altro aveva un'idea anticlericale, un altro... Ma era questa maturazione reciproca, complessiva. Quando quindi diciamo i partigiani senza fucile e questa roba. L'apoteosi di questa cosa l'abbiamo con gli scioperi della primavera del 44. Chi se ne rende subito conto sono gli americani. Sulla prima pagina del New York Times viene scritto, qui l'ho presa letteralmente, perché ho aperto una polemica con Galli della loggia e allora cito il testo, non è mai avvenuto nulla di simile nell'Europa occupata che possa somigliare alla rivolta degli operai italiani. è una prova impressionante che gli italiani disarmati come sono sanno combattere con coraggio ed audacia quando hanno una causa per cui combattere. Prima pagina del New York Times, guardiamoci negli occhi. Allora, il New York Times non lo leggeva neanche Giorno Napolitano che alla mattina incomincia le sue giornate leggendo la stampa anglosana. Napolitano parla uno stupendo, il migliore inglese che io abbia sentito in Italia. Ma questo è un discorso fatto agli americani perché avevano poi anche un problema che incominciata la guerra visto come si era schierato Mussolini gli italo-americani erano visti con diffidenza negli Stati Uniti. e solo dopo tutta una serie di prove si arriva finalmente a questo riconoscimento. E allora io capisco anche le sue ragioni Galli della Loggia quando dice lui parla di morte della patria. In fondo ogni italiano non solo aveva un nemico ma aveva in più anche il nemico di chi stava con l'altra parte per dirla tutta avremo poi la guerra fredda o Washington o Mosca. Ecco no non è così c'è c'è un'unità da questo punto di vista ci sono evidentemente i riferimenti spesso ci sono analisi che si sovrappongono per esempio pensate mi veniva in mente i tre ammazzati da queste parti cosa è grossomodo una cooperativa uno spaccio quello lì no? All'osteria mi è rimasto impresso lui con la pipa in mano e lei col panino caspita ci sono partigiani il fucile probabilmente non sapeva era meglio che non lo adoperasse se no si tiravano addosso ecco però se hanno combattuto e ci ha lasciato pure la pelle ebbene dietro tutto questo c'è davvero da capire una maturazione che è comune del popolo italiano che attraversa le linee che li mette insieme io non so se sia vero una cosa è vera Sesto San Giovanni Stalingrado d'Italia GAP eccetera siamo pieni di formazioni partigiane il tesoriere del CLN era il prevosto si favoleggia io questo ho qualche dubbio perfino ma papà che era partigiano diceva sotto l'altare maggiore avevamo la mitragliatrice senz'altro è vero che i camerini della filodrammatica erano stipati di armi ecco quindi abbiamo casi in più ancora ancora più nella quotidianità e lo dico per far capire la maturazione il ruolo dei preti dopo l'8 settembre ci sono interi oratori che vanno dal prete a dire da che parte sto quelli in età di leva c'è addirittura il caso in Piemonte di un prete che prende tutto il suo oratorio lo porta in montagna dopo una settimana va su lo riprende e siccome aveva saputo che quelli erano comunisti li porta via e li porta a una brigata di giustizia e libertà quindi hai tutta una serie di trasformazioni le suore quando gli ebrei bussano ai conventi e per ricevere l'ebreo non deve solo essere d'accordo la superiore deve essere d'accordo tutto il convento se no non ce la fai c'è addirittura un caso rocambolesco roba da filo potresti mettere lì ma io sono venuto a conoscerlo recentemente lo ha lo ha lo ha lo ha narrato Taviani partigiano capo della Liguria diciamo così c'è uno che si che resta sbandato e si rifugia in un convento di clausura come facciamo a far scappare questo qui allora parroco superiore si offre una monaca di clausura dice io sono alto a tesina parlo bene il tedesco e allora è una garanzia e infatti funziona escono siamo dalle parti della via dell'amore delle cinque terre proprio a quella parte lì disgrazia vuole che incontrino una pattuglia di SS quelli sparano colpiscono il partigiano alla gamba questa qui si butta addosso lo basa fa una scena da fin strappa lacrime eccetera eccetera parla in tedesco gli SS si convincono mollano tutto salvano finita la lotta di liberazione e Taviani un po' maliziosamente scrive al vescovo che fine ha fatto quella suora lì e il vescovo rispondere il vescovo viva in Dio nella preghiera e morta al mondo non sa più niente ecco sono tutte scene che dicono e guardate qui per esempio perché ho citato i conventi ho citato gli ebrei perché è stato un problema grosso una maturazione difficile perché nella liturgia cattolica c'erano gli vettive contro gli ebrei dei cidi l'unico che aveva cambiato la preghiera era Don Mazzolari ma agli occhi di tutti gli altri gli ebrei erano gli assassini di Gesù il Nazareno e quindi tutto il problema e anche all'inizio sulle leggi razziali anche Schuster quando prende posizione è più contro i nazisti è più contro i tedeschi non dico non è d'accordo neanche con Mussolini solo che poi col 43 basta viene giù tutto nel senso che per il fascismo la Chiesa è l'avversario che non ti aspetti per il tipo di reazione ecco ho cercato di far vedere queste cose che attraversano anzitutto le fabbriche uomini donne e così via i quartieri per esempio Luigi Borgomaneri ha scritto un bel libro su la primula rossa del Giambellino è uno di madre lingua tedesca madre tedesca e padre italiano che viene espulso dalla Germania perché si oppone alle leggi razziali viene a Milano al Giambellino si mette insieme con altri giovani partigiani e fa la primula rossa va libera prigionieri spacciandosi per esso insomma fa robe proprio da film da questo punto finché è bruciato va in voltellino nelle chiese a fare il partigiano con fucile in quel caso quindi hai anche qui nel quartiere tutta una maturazione è questo che accade problema si potrebbe andare avanti e anche divertirci dove va a finire tutto questo patrimonio a noi cosa dice cosa resta ogni volta che vado a fare il necrologio fub nebre di un partigiano parto da qui cosa resta i giovani se vogliamo interessarli bisogna andare nelle scuole oppure le associazioni sportive che fanno la fiaccolata la sera non c'è il massimo di attenzione rispetto a questo prima cosa ma ha senso porsi questa domanda ha senso la storia non è scritta una volta per tutte la storia come ci ha insegnato Lugoff e come ci ha insegnato anche Pietro Scoppola dipende dalle domande che le rivolgi mica solo quelle degli storici anche quelle dei cittadini che si interrogano a che punto siamo dove andiamo quale futuro cosa facciamo e quindi quale passato eccetera eccetera questo mi sembra la prima cosa ma c'è una cosa e dello snodo come dire più politico c'è da riscoprire il rapporto tra la lotta di liberazione e la costituzione del 48 guardate la costituzione del 48 non è la resistenza cosa fanno i padri costituenti sono divisi tra loro sì abbassano i toni no la politica non è galateo la politica non è galateo ognuno c'ha la sua idea c'ha rischiato la pelle per la sua bandiera e quindi arrivano alla costituente con un'idea con un'intenzione comune però di scrivere insieme un progetto per tutti gli italiani questa è la costituzione del 48 non annacquano le posizioni proprio niente l'articolo sulla famiglia passa per un voto i patti lateranensi articolo 13 vengono in costituzione perché De Gasperi e Dossetti si rendono conto che è impossibile cambiarli per adattarli a questa costituzione sono troppo vecchi e Togliatti capisce il problema e non vuole scatenare la guerra di religione ed allora fanno prima dire i patti lateranensi fanno parte vengono recipiti nel testo costituzionale ma Dossetti che è quello che lavora di più a questa cosa cosa fa appena si crea la prima conferenza episcopale italiana viene creata allora dice subito al suo cardinale Lercaro cambiate subito i patti lateranensi perché sono troppo vecchi questo fa la cosa oppure il più bello articolo l'Italia ripudia la guerra articolo 11 quel verbo dantesco fra l'altro mi hanno detto che il verbo fu inventato da Zagari Mario Zagari che lavorava in una sottocommissione a fianco delle sottocommissioni della Costituente l'Italia ma c'è anche un'altra cosa allora prima cosa i padri costituenti le magagne anche dei partigiani le sapevano meglio di Pansa perché c'erano dentro però capiscono che bisogna andare oltre per fare un progetto per tutti i comunisti restavano comunisti i socialisti i socialisti i democristiani i democristiani i liberali sono andati dentro così nella Costituzione sono usciti così ma hanno fatto insieme hanno scritto insieme quel testo che non hanno scritto i giuristi la Costituzione l'hanno scritto i politici i tecnici sono al servizio della politica se fai il contrario non va bene e questi lo sapevano perfettamente e questi lo sapevano perfettamente allora fanno guardate che siamo a rischio fino alla fine perché alla fine si alza Giorgio Lapira Giorgio Lapira peraltro lui e Aldo Moro si erano già alzati prima nell'assemblea nella sottocommissione dei 75 nella seconda sottocommissione per fare alcuni interventi molto antifascisti però alla fine si alza Giorgio Lapira c'è il voto finale Giorgio Lapira propongo un incipi di questo tipo in nome di Dio il popolo italiano oh casino non c'è un altro termine che possa dire quello che successe lì grazie a Dio avevamo un presidente Terracini comunista di polso fermo e idee molto chiare il quale dice una cosa non do la parola a nessuno perché c'erano quelli già che saltavano sui banchi e Concetto Marchesi e Lelio Basso me li potete immaginare ecco da questo punto dice onorevole Lapira aspetto che lei ritiri la sua proposta un po' di suspense ecco chiamiamo il termine inglese copre quello italiano un po' sbraccato e alla fine Lapira dice dovevo provarci ritiro e passa la formulazione fanfagnana l'Italia è una repubblica fondata che è la formulazione che Fanfani fa emendando una prima proposta di Togliatti l'Italia è fondata sul lavoro è fondata sui lavoratori diceva Togliatti e invece Fanfani facciamo una cosa più comprensiva si mettono l'Italia è una repubblica fondata quindi c'è un momento in alla Costituente no no tranquillo c'è un momento alla Costituente e il 16 aprile del 1946 che è il clou a mio giudizio dove si capisce come gira finalmente il vento si alza Dossetti e Dossetti che aveva l'abitudine di essere sempre molto chiaro dice come facciamo noi che siamo così diversi a scrivere insieme una medesima Costituzione era quello che pensavano tutti io vi faccio una proposta se il fascismo no questa Costituzione la fondiamo sull'antifascismo e vi dico quello che secondo me deve essere il nostro antifascismo se il fascismo è stato il prevalere dello Stato rispetto alla persona chi voglia sincerarsene va da leggere sull'enciclopedia italiana la voce fascismo firmata Benito Mussolini e però tutti sappiamo scritta da Giovanni Gentile che era probabilmente non soltanto la mente più acuta del fascismo ma del paese uno può avere in tasca la tessera sbagliata può essere intelligente viene fuori il fascismo come prevalere dello Stato e vi capite tutto pensate cosa è stata la propaganda fascista cos'erano i litoriali ma per esempio andate a vedere la vita di quello che ha scritto la preghiera ribelli per amore questo aveva vinto tutti i litoriali la pira che mica soltanto le combinava ogni tanto le combinava proprio anche di giuste che si era alzato alla costituente a dire state attenti che quello che mettiamo in costituzione i diritti che diamo agli italiani non glieli diamo noi non glieli danno le leggi glieli riconosciamo perché stanno già dentro nell'animo delle persone in quanto sono uomini e anche su questo si erano trovati d'accordo e allora Dossetti dice io propongo che il nostro antifascismo sia il prevalere della persona interviene subito Togliatti il quale dice io non sono d'accordo sulla concezione di persona non sono d'accordo che ha Dossetti ma sono d'accordo nel mettere la persona a fondamento nella nostra democrazia la cosa Dossetti la scrive in un ordine del giorno vi ho detto che litigavano questa volta passa all'unanimità secondo me è la è la svolta a gomito non so come dire di tutta allora c'è questo rapporto tra quella lotta di liberazione quella maturazione partigiani col fucile senza e la carta costituzionale che ripeto non è la resistenza sono gli uomini della resistenza che si pongono la domanda quale progetto diamo agli italiani e c'è una cosa in più ancora perché se no non si capisce in un clima internazionale perché la carta dell'ONU diceva cose analoghe Roosevelt fa un discorso il cosiddetto discorso dei cinque punti al congresso in cui riprende gli stessi temi gli accordi di Bretton Woods sulla moneta che ogni tanto ricicciano fuori adesso per la crisi finanziaria accompagnano tutto questo e c'è all'ONU l'idea che lo Stato non debba più soltanto essere fondato sulla sovranità perché se no gli Stati cozzano e vanno in guerra ma che ci debba essere una comunità internazionale poi non si è riusciti a farla io quando sento oggi la comunità internazionale dico mamma speriamo che stavolta ci prendano credo che di non essere il solo a dire a pensarla così ma è dentro questo clima e quindi hai gli uomini che sono usciti dalla resistenza che mantenendo le proprie convinzioni certo in democrazia devi ascoltare anche l'altro lo faceva quanto meno il rispetto per l'altro c'era quindi lo stai ad ascoltare però insieme scrivono questo ecco perché proprio Dossetti parlando ho finito al centro di studi giuridici di Napoli dirà nel 95 c'è un'idea che hanno i tedeschi anzi prima di tutti gli americani patriottismo costituzionale che hanno anche i tedeschi forse anche noi italiani ecco dovremmo interrogarci intorno a questo ho detto questo per dire quella resistenza che è stata una resistenza di popolo pensa quale saranno gli italiani del futuro e allora scrive questa cosa che è anche un sogno per alcuni versi non è solo mettere in bella copia alcune cose è anche buttare il cuore oltre l'ostacolo la Costituzione ed è questo il patriottismo costituzionale che è il legame che lega anche gli italiani e li mette come altri popoli in atteggiamento di ascolto rispetto a una lotta di liberazione chiudo chiarendo una formula almeno dal mio punto di vista avrete spesso sentito sta scritto anche sui testi di scuola lo diceva Calamandrei la lotta di liberazione è il secondo risorgimento perché? primo perché quelli si rendevano quelli alla Costituente si rendevano perfettamente conto che il primo risorgimento era stato tutto consumato dalla propaganda il balilla guardate va ristudiato il sistema di consenso del fascismo Togliatti quando fa le conferenze ai quadri del PC a Mosca gli spiega come sia importante il dopo lavoro nel 39 il fascismo aveva più del 90% di consenso nel paese e io alle volte mi interrogo sul fatto se Mussolini non fosse andato in guerra può essere che avrebbe battuto il record di Franco e di Salazar queste cose uno che non è un tifoso anche uno che ha a cuore la libertà e la democrazia deve averle in testa ecco perché va scandagliata a fine in fondo tutta la densità della lotta di liberazione ebbene lì si riesce a fare questo passaggio è il secondo risorgimento capiscono che gli italiani hanno bisogno di nuovi riferimenti perché tutti quelli che ci eravamo inventati prima magari proponendo gente che assolutamente non andava d'accordo tra di loro perché tra Vittorio Emanuele e il secondo e Mazzini e Cavour piuttosto che gli altri e Garibaldi fanno parte tutti dell'iconografia del nostro risorgimento ma che tra loro ci fosse buon sangue non solo non è detto è proprio sicuro che no da questo punto di vista quindi la grande operazione consiste in questa quindi il capire quello che sta dietro il capire anche la densità etica un popolo non sta insieme senza un'etica di cittadinanza non basta la crescita e questi sono problemi che si sono posti in questa continuità discontinuità tra lotta di liberazione e costituzione ringrazio tantissimo Giovanni per questa ricostruzione di questa maturazione che c'è stata nella vita quotidiana di questa resistenza senza fucile che ha poi portato alla nascita della nostra Costituzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti